Il viaggio di TV City tra gli stabilimenti balneari di Torre del Greco. Dopo quelli della Litorania, oggi siamo stati con le nostre telecamere in località alla scala a via Calastro. Anche qui i lidi si sono attrezzati nel rispetto delle normative anti-covid per offrire ai clienti un'estate in sicurezza. Prevista per mercoledì l'apertura dello stabilimento balneare. Mercoledì si fa l'apertura dell'estate e si ricomincia il mare, sperando bene. È un po' difficile quest'anno per un po' per tutti, è un anno un po' anomalo, le nostre distanze ce le abbiamo, la legge prevede a 3,20 metri fra un ombrellone e un altro, lì della scala lì terrà a 3,50, sanificheremo gli ombrelloni, sanificheremo i lettini all'andata e al ritorno che fittiamo per i clienti. Quindi anche per tutelare i clienti? Soprattutto per tutelare i clienti e anche per stare tranquilli noi e per farci un'estate più serena e tranquilla. Uguale a quelli dell'anno scorso il numero degli ombrelloni? Penso proprio di no, siamo circa 40 ombrelloni in meno quest'anno per il distanziamento, infatti per stare ancora più tranquilli questa zona qua era una zona dove ci stavano le cabine, adesso sono state eliminate con divanetti e per stare più tranquilli ancora possibile. Mascherine, non mascherine, alcol per disinfettare le mani? Ci abbiamo tutto, anche noi diamo le mascherine chi non ce l'ha per essere ancora più sicuri, anche se la legge non prevede più all'aperto la mascherina, ma chi la vuole non ce l'ha, noi abbiamo la mascherina per il cliente. Grazie a tutti.